ciao ragazzi benvenuti a the wildlife corner il canale della fotografia naturalistica nel video di oggi parliamo di autofocus e in particolare delle modalità autofocus che io utilizzo per la fotografia naturalistica nel 2022 avevo fatto un video del genere qualche tempo fa forse più di un anno fa anche due in cui parlavo delle modalità autofocus della macchina che utilizzava all'epoca che era una reflex ed era una nikon sono passato nel frattempo al mondo mirrorless in questo momento sto utilizzando una sony alfa 1 e mi approfitto sia per diciamo fare il parallelo con quello che facevo nel passato sia per spiegarvi come il mio flusso di lavoro si sia un po modificato in seguito alle nuove opportunità che il mondo mirrorless offre allora intanto io sono una persona diciamo abbastanza semplice nelle impostazioni tecniche perché credo che quando si è sul campo e si devono controllare tutta una serie di elementi naturali quindi cercare gli animali cercare il modo migliore per avvicinarsi essere consapevoli di eventuali ostacoli problemi controllare lo sfondo la luce eccetera meno ostacoli tecnici ci sono e più sono alte le nostre possibilità di portare a casa una bella foto quindi che cosa faccio io generalmente quando prendo una macchina fotografica cerco di impostarla in modo da utilizzare il numero minimo possibile di modalità autofocus in modo tale da evitare di essere intralciato dalla tecnologia invece che aiutato per chi non avesse visto il video dell'epoca le modalità autofocus sulla reflex che io utilizzavo erano sostanzialmente il punto singolo quando volevo la massima precisione e per lo più utilizzavo l'area dinamica che era un punto singolo con alcuni punti diciamo di ausilio intorno qualche volta ho utilizzato il gruppo EIF che era una specie di punto un po' più grande che aiutava negli uccelli in volo perché era più facile mantenerlo sul soggetto queste modalità generalmente erano accompagnate dal fatto che il punto si trovava quasi sempre al centro perché nelle reflex i punti erano diciamo tutti concentrati nella parte centrale del sensore e era siccome non c'erano modalità di tracciamento dei soggetti diventava difficile spostarle per cui lo facevo solo quando il soggetto era sostanzialmente statico e quindi mi potevo permettere il lusso appunto di muovere il joystick il passaggio al mondo mirrorless ha cambiato completamente le cose dal punto di vista delle possibilità ma dal punto di vista dell'impostazione no nel senso che anche qui nel mondo mirrorless io ho scelto di utilizzare un numero limitatissimo di modalità autofocus in particolare sulla sony ne uso solamente due ma anche quando ho utilizzato delle mirrorless nikon ho fatto esattamente la stessa cosa le modalità che utilizzo sono ancora una volta il punto singolo quando voglio la massima precisione quando l'autofocus non riesce a trovare il soggetto e quindi ci serve diciamo un punto che sia il più preciso possibile e l'altra modalità invece è la modalità che su sony si chiama zona che è una zona centrale abbastanza grande che è relativamente semplice centrare sul soggetto nel momento in cui il soggetto è in movimento si sta spostando rapidamente oppure comunque quando è ben individuato e la macchina lo trova in maniera semplice sulla nikon avevo utilizzato il punto singolo e un'altra modalità che si chiama wide area che poi c'è in versione small più grande che si chiama large ma sostanzialmente funziona diciamo nello stesso modo ora nelle nikon z che ho usato io le vecchie z6 e z7 non era il massimo della vita nella z9 ovviamente è diventato all'altezza di quello della sony forse addirittura magari anche meglio e quindi grosso modo quello che sto dicendo qui vale per ambe due le macchine fotografiche non ho esperienza diretta come ho accennato più volte col mondo canon ma più o meno so che le modalità autofocus a disposizione fanno grosso modo le stesse cose l'autofocus della canon forse addirittura è il migliore dei tre quindi sicuramente quello che sto dicendo qui vale anche per canon queste modalità io che cosa ho cercato di fare diciamo per essere rapido le ho associate ad un pulsante che sta sulla macchina fotografica in modo tale che premendo questo pulsante io posso cambiare posso girare dall'una all'altra questa possibilità c'è più o meno su tutte le macchine fotografiche con più o meno difficoltà ma la cosa importante è che voi limitiate le modalità autofocus a quelle che utilizzate davvero altrimenti quando passate da una all'altra rischiate di fare un ciclo in cui prima di arrivare a quella che volete girate tre volte intorno alle cose prima di ritrovarle e questa è una cosa che nella mia esperienza fa perdere tempo e anche foto quindi ho limitato a due le modalità quindi cosa faccio premo il pulsante punto singolo lo ripremo modalità zona la cosa più semplice del mondo quando la zona non trova il soggetto ripasso a punto singolo queste sono le due semplicissime modalità che io utilizzo naturalmente l'autofocus della sony è ben fatto quindi e questo ci aiuta con tutta una serie diciamo di opzioni di riconoscimento del soggetto riconoscimento dell'occhio eccetera quindi adesso passerò sul sull'atomos ninja per farvi vedere effettivamente come le uso quali sono e quali sono le caratteristiche di queste due modalità ripeto però è una cosa che io faccio ovviamente sulla macchina che ho a disposizione ma il principio grossomodo rimane lo stesso per tutti allora ragazzi vi faccio vedere dal punto di vista pratico la cosa che vi dicevo prima cioè come utilizzo le due modalità autofocus allora intanto ho programmato un tasto della macchina fotografica che è quello che vedete adesso scorrere qui nelle immagini per poter cambiare le due modalità se io premo una volta il tasto vado sulla seconda modalità lo ripremo vado sulla prima e così via quindi è un è un ciclo vedete che l'aver utilizzato solamente due modalità mi rende la cosa estremamente facile perché se io decido di passare una modalità quella non dovesse trovare il soggetto è abbastanza facile poter ripassare alla modalità più precisa ora per quanto riguarda quello che vi dicevo prima e cioè diciamo le facilitazioni che la macchina fotografica vi può offrire praticamente nel mondo sony ma anche nella maggior parte delle macchine fotografiche moderne queste aree autofocus hanno la possibilità di riconoscere il soggetto quindi se si tratta di un soggetto a loro noto automaticamente lo tengono inquadrato riconoscendone anche l'occhio vedete che io qui sono appunto singolo ho inquadrato l'occhio di questo pupazzetto e vedete che si è attivato il riconoscimento dell'occhio questo perché è un occhio che può assomigliare a quello di un animale ovviamente non funziona proprio sempre perché non è proprio un occhio diciamo fatto nella maniera corretta però vedete che in un certo senso in un certo modo la macchina lo trova se passo alla modalità più grande vedete che la macchina una volta che l'ha trovato continua a riconoscere l'occhio e questo è una cosa diciamo che generalmente funziona abbastanza bene quindi io generalmente inizio la mia sessione fotografica con questa modalità zona la sposto sullo schermo se necessario per diciamo magari per ragioni di inquadratura ma poi quando inquadro il soggetto premo il pulsante di scatto come sto facendo in questo momento se la macchina riconosce il soggetto automaticamente vede l'occhio se per caso la macchina non dovesse trovarlo passo al punto singolo magari lo sposto nel punto di maggior contrasto e poi premo il pulsante di messa a fuoco posso tornare facilmente alla modalità precedente vedete è estremamente semplice quindi questo tipo di workflow per me funziona perfettamente perché diciamo è estremamente semplice ma nello stesso tempo è estremamente efficace nel mondo Sony c'è un'altra facilitazione che per esempio non mi pare che esista in modo diretto su Nikon non so su Canon che è quella di poter utilizzare queste due modalità anche nella funzione di tracking in queste modalità io sono in modalità AFC ovviamente quella in cui la macchina segue il soggetto se dovesse spostarsi e queste sono le due aree punto singolo e area zona però in queste due modalità sono io ad avere la responsabilità di tenere il punto sul soggetto se adesso io per esempio sposto la macchina fotografica vedete vado fuori dal soggetto per poterlo mettere a fuoco lo devo rispostare qui sopra altrimenti se io metto a fuoco in un punto diverso vedete che il soggetto va fuori fuoco e la macchina tenta di mettere a fuoco una cosa diversa in questo caso lo sfondo ora l'altra modalità che esiste nella Sony e in tutte le macchine moderne ma che qui è molto facile attivare è la cosiddetta modalità tracking che io ho programmato su un altro tasto quello che vedete adesso vedete che ci sono due tasti nella macchina posteriore uno che ha AF on e uno che ha scritto A e L questo secondo tasto è quello che attiva il tracking quindi io scelgo la modalità in cui voglio essere per esempio punto singolo premo questo pulsante la macchina riconosce il soggetto e vedete che quando io sposto la macchina fotografica la macchina stessa tiene il punto di messa a fuoco sul soggetto quindi non solo segue il movimento del soggetto ma se io vado fuori dalla posizione del soggetto la macchina continua a tracciarlo questa cosa funziona naturalmente anche nella modalità a zona torno per un momento nella modalità normale vedete poi passo su zona qui sono nella modalità tradizionale se io premo il tracking vedete che anche se mi sposto il soggetto rimane lì vedete la differenza modalità normale metto a fuoco se vado fuori la macchina perde il soggetto modalità invece con il tracking vedete che se mi sposto la macchina conserva la posizione sul soggetto io non uso moltissimo questa funzione però è estremamente facile utilizzarla nella modalità autofocus che io ho scelto o punto singolo o zona basta che cambio il tasto che premo dietro e sono qui modalità normale e qui modalità tracking quindi è una cosa diciamo abbastanza facile ecco io mi sono diciamo organizzato in questo modo che secondo me è la modalità più semplice per poter ottenere un risultato vi faccio notare anche un'altra cosa ricollegandomi al video dell'altra volta in cui vi parlavo del difetto di messa a fuoco delle macchine mirrorless vi faccio notare che qui c'è un soggetto che potrebbe assomigliare a un animale vedete io ce l'ho a fuoco vado fuori metto a fuoco lo sfondo per esempio ecco mi metto proprio su una cosa che sta sullo sfondo anzi ancora più lontana vedete che il soggetto è di fronte a me se io mi ci riposiziono sopra vedete che la macchina in questo momento lo ritrova quindi quel difetto che vi dicevo l'altra volta non è che si verifica sempre dipende dalla struttura del soggetto in questo caso lo ritrova perché ha una forma che assomiglia a quella di un animale se invece fosse stato un posatoio tipicamente verticale o un oggetto con una forma meno riconoscibile il problema sarebbe stato più accentuato perché se avete visto il video precedente vi dicevo che non è tanto un problema cioè il riconoscimento migliora non perché migliori l'autofocus perché questo è proprio l'autofocus delle mirrorless che non ha i punti a croce quindi che ha difficoltà nel fare questa operazione ma quando migliorano questi algoritmi di intelligenza artificiale che riconoscono il soggetto migliora la loro capacità di tornare indietro questa cosa funziona anche con aree più larghe con a volte una maggiore difficoltà vedete io qui mi metto sullo sfondo inquadro una cosa completamente diversa se torno qui davanti vedete c'è una specie di fantasma che è l'oggetto se io ci clicco sopra vedete che la macchina però fa fatica in questo caso non riesce a ritrovarlo qualche volta lo trova qualche volta no prima ce l'avevo provato l'avevo ritrovato adesso non lo ritrova più questo perché appunto è c'è una differenza diciamo troppo piccola per il riconoscimento se mi metto appunto singolo vedete lo ritrova più facilmente però ci sono casi come vi facevo vedere l'altra volta in cui anche appunto singolo non riesce a ritrovare il soggetto motivo per il quale ci sono quelle famose tecniche che vi accennavo nel video precedente che se non l'avete visto poi ve lo linko qui sotto nella descrizione dateci un'occhiata perché è una cosa interessante comunque al di là del problema della messa a fuoco ecco questo è il modo molto molto semplice in cui io mi sono organizzato per il discorso dell'autofocus bene ragazzi spero con questo video di avervi dato un'idea diciamo di quali secondo me sono le modalità autofocus utili ma anche e soprattutto del fatto del principio che la semplicità e il togliersi gli ostacoli tecnici sia la chiave per poter ottenere il massimo dalla propria attrezzatura ci tengo sempre a sottolineare un concetto importante c'è un fotografo americano famosissimo che si chiama Steve Perry che se non conoscete vi consiglio di andare a cercare che addirittura scrive delle percentuali secondo lui qual è l'importanza della macchina qual è l'importanza diciamo di tutti gli elementi della foto naturalistica adesso senza dare delle percentuali precise l'importanza dell'attrezzatura secondo me non supera il 30% della foto perché comunque se uno non va in un posto dove ci sono gli animali se non li sa trovare, se li fa scappare, se non ne conosce il comportamento le foto non le fa con nessuna macchina posto che uno ha risolto tutti quei problemi per il restante 30% una parte deriva dall'attrezzatura è chiaro che una Sony Alpha 1 che è una macchina a miraglia fa delle foto in maniera più consistente di una Sony A7IV di una Z7II, di una Canon magari R6 o R5 perché è una macchina che ha delle caratteristiche leggermente superiori se riprendiamo questa macchina, la portiamo vicino a una Canon R3 a una Sony Z9 ritorniamo su quella fascia di caratteristiche la differenza però non sta nel fatto che queste macchine fanno meglio le foto ma che ti aiutano ad avere risultati più consistenti ma per sfruttare al meglio questi strumenti sia una macchina a miraglia sia una macchina normale è importantissimo conoscerli, padroneggiare le loro modalità e semplificare al massimo le operazioni che noi dobbiamo fare automatizzandole, interiorizzandole avendo la memoria nelle nostre mani di quello che stiamo facendo in modo tale da ottenere appunto il massimo dei risultati bene, spero insomma di avervi dato qualche consiglio utile come al solito se avete domande o dubbi lasciatemi di qui sotto e ci vediamo nel prossimo video